Le esecue della città di Pescara si terranno domani alle 18 in piazza Muzzi. E' quanto si legge nei necrologi affissi sulle vetrine dei locali dagli esercenti della zona della Movida Pescarese, uniti nella decisione di tenere chiuse le proprie attività per carnevale, in modo da riportare l'attenzione dell'amministrazione comunale sull'agonia degli esercenti, causata dalla lunga serie di ordinanze sugli orari di chiusura notturna dei locali del centro cittadino. Complice anche a una legge datata 2001 che vieta di somministrare alcolici in strada dopo la mezzanotte, Confartigianato ha lanciato un appello al comune per evitare la morte commerciale e turistica della città, come spiegato da Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato di Pescara. Abbiamo ascoltato commercianti artigiani della zona e siamo arrivati comunque a un punto morto. È fondamentale un'inversione di rotta, per cui abbiamo chiesto a tutti i capogruppo, destra e sinistra, insomma di tutta classe politica, al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale, un incontro. Pescara è sempre stata al centro della regione, cioè il polo attrattivo della regione Abruzzo. E affinché questa cosa continui occorre un'inversione di rotta, perché come purtroppo avevamo previsto mesi e mesi fa, c'è un flusso di persone lento che man mano si sta spostando, perché a Pescara le serate sono troppo corte. Noi crediamo che sia arrivato il momento di capire qual è la visione di questa città, o la visione che si immagina di questa città. Per noi non si può più tornare indietro rispetto a un piano strategico che punti al turismo. Non soltanto eventi, ma una strategia a lungo termine. Marketing territoriale e anche una comunicazione fondamentale. Anche il dibattito sulla pericolosità della notte a Pescara ci è sembrato veramente un autogol. Pescara è una città sicura, non è una città violenta e quindi si è discusso del nulla. Pescara è una città dinamica, vitale e si viene a Pescara per divertirsi. Non possiamo rischiare di perdere questa caratteristica. Invertire la rotta è necessario per evitare la desertificazione della città, anche secondo Filippo De Bonis, uno degli esercenti della zona di Piazza Muzzi, già fortemente provati da due lunghi anni di pandemia. Stiamo organizzando più che altro uno sciopero simbolico per protesta. Vorremmo far vedere al sindaco, alla cittadinanza tutta, quello che è il nostro compatto, quello che è il nostro lavoro, quello che sarebbe la nostra assenza. Sono due anni che noi andiamo incontro a ordinanze che si susseguono a 15 giorni di distanza l'una dall'altra e che vietano la vendita e sostanzialmente il commercio, la libertà di commercio, in questa zona, soltanto in questa zona dopo la mezzanotte. È una sorta di coprifuoco. Ci sono realtà che non esistevano fino a quando non ci si accaniti con Piazza Muzzi. Gli stessi fornitori che rifornivano noi hanno notato che nel momento in cui noi abbiamo avuto un calo, nelle zone limitrofe c'è stato un picco. Quindi questo è un chiaro segnale che se il commercio si è spostato, si è spostato in una zona che può essere Chietiscalo, che può essere Francavilla durante l'estate, che può essere Montesilvano durante le ore notturne, perché ci sono molti locali, molti pub, molti circoli, molti ristoranti che non hanno ordinanze e che non hanno di vieti di chiusura. Quindi sono posti più piacevoli dove passare una serata, dove si ha più libertà di passare una serata.